rieccoci qui ragazzi in questo nuovissimo video qui con voi è sempre il vostro amico dei pokemon e quest'oggi finalmente sono arrivati entrambi i set allenatore fuori classe di regno glaciale abbiamo calyrex cavalcatura spettrale e calyrex cavalcatura glaciale quest'oggi io direi di andarci ad aprire il calyrex cavalcatura spettrale e mercoledì ci andremo ad aprire calyrex cavalcatura glaciale io non perderei altro tempo e andiamo a vedere cosa troviamo in questo bellissimo set allenatore ed ecco qui il nostro bellissimo set allenatore andiamo a vedere che cosa c'è al suo interno togliamo prima la plastichina che mi sono pre diciamo aiutato toglierla e leggiamo un po il suo contenuto regna sulle terre innevate passi in vantaggio con pokemon delle lande glaciale grazie al potente calyrex cavalcatura glaciale vimax e calyrex cavalcatura spettrale vimax insieme alle forme di gara di articuno zapdos e montres infestazioni di fantasmi bufere che incalzano e lotte pietate amplia il domino strategie con pokemon dai nuovi incredibili poteri rompe l'incantesimo universario e proclama la tua schiacciante vittoria nelle gelate terre spettrali con l'espansione spade scudo regno glaciale il set allenatore folicast dell'espansione spade scudo regno glaciale gc pokemon contiene otto bustine nell'espansione spade scudo regno glaciale 65 bustine protettive con calyrex cavalcatura glaciale o spettrale in questo caso noi quella spettrale 45 carte energie la solita bustina con tutte le carte energie una guida giocatore per l'espansione regno glaciale un regolamento del gcc pokemon sei da di segnalino danno che saranno di colore violaceo come vediamo stupendi un dato lancia munita valido per le gare che sarà questo qui un po più grande due segnalini della condizione speciale in prexiglass ovvero veleno e bruciatura un cofanetto della collezione dotato di quattro divisori ovvero questo qui quando si abbassa diventa quattro divisori abbiamo il codicino che vi andrò a regalare vediamo questa bellissima cartoncino davvero bella questa immagine e abbiamo subito wow stupendo madoro bellissima rifinitura in argento per la confezione incredibile e ora andiamo un po a vedere le carte cicciotte del set andiamo all'ultima pagina vediamo un po che cosa ci possiamo trovare andiamo 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 e già qui cominciano le full art ovvero classiche in full art volcanio full art calyrex cavalcatura glaciale full art e poi la bellissima alternative art poi abbiamo ancora il calyrex spettrale e zero ora davvero fantastici il moltres zapdo full art zappdos alternative art davvero stupende poi abbiamo moltres alternative art le varie full art metagos full art stupendo tornados v alternative art ancora più bello poi abbiamo i vari allenatori in full art alternative art di blazigen alternative art di calyrex quello spettrale e quello glaciale poi abbiamo tutte le altre e ovviamente ultima pagina di quelle gold che in questo set come abbiamo già visto ci sono tre energie gold ovvero acqua psico e lotta magari ne troviamo qualcuna chissà si spera andiamoci ad aprire questo bellissimo scatolino al suo interno come sempre abbiamo la guida che è inutile che ci andiamo a leggere i segnalini in pexiglass come avevamo già detto i dati di questo colore violaceo e azzurrino il dato grande è sul viola bello davvero molto bello poi abbiamo se togliamo questo riusciamo a capire meglio le nostre ovviamente otto bustine due tre quattro cinque sette e otto bustine abbiamo i divisori belli belli anche questi davvero molto belli qui da qualche parte ci dovrebbe essere il codicino e infatti codicino per voi dello scatolo e abbiamo le stupende bustine di calyrex forma spettrale all'interno non c'erano niente pacchetto di energie che potevano anche metterci una cosa all'interno ma ma che ma che ma che ma che togliamo un po di robina davanti e ci andiamo ad aprire il nostro le nostre otto bustine cominciamo con il calyrex cavalcatura abbracchiamo un po il ventilatore perché si sente da un po e nella nostra prima bustina di oggi abbiamo sempre il codicino che vi vado a regalare tricchettino e andiamo con la prima carta che è un'energia erba Tania guanti spacca tutto Wirliped Aaron Blito Lapras Bonsui Venniped la reverse di Tania come abbiamo iniziato così chiudiamo e la rara è un cinderis olografico che non è male aver trovato un'ologa grafica perché abbiamo capito che in questi pacchetti sono rare anche le olografiche andiamo con il nostro secondo pacchettino di Zapdos di Kigala e abbiamo il secondo codicino che vi vado a regalare tricchettino e andiamo si comincia con l'energia oscura Fion Drizol Tizmer Casform forma Nive Globopus Golent Ladybar Casform forma normale la reverse di Nia e la rara è un sarina non olografico come vedete qui non abbiamo trovato l'olografica andiamo col terzo pacchettino raffigurato molto fisca il mio dei tre preferiti di lei codicino per voi 1 2 3 2 4 e abbiamo 1 energia psico rudy cristallo di bruma kirlia furfru bone sweet raffigurato sobol atena cup fu la reverse di crowblower e la rara è un qui si indica non olografico 3 pacchetti e ancora niente di cicciotto abbiamo solo uno grafica andiamo col quarto pacchettino con la raffigurazione del nostro artico di gala che non si vuole aprire ok c'è questa e abbiamo il codicino per voi e 1 2 3 4 cominciamo con una bella energia fuoco melania seal hunter girling golet diglett scormani scuitto aerocross nella sua forma reverse e la rara è un zangos e ancora niente di cicciotto andiamo con il nostro quinto sì quinto pacchetto abbiamo ancora altri 3 pacchetti e abbiamo codicino per voi e 1 2 3 4 energia lampo hunter sofora saleo street ladybar soboom larvesta cast form forma pioggia la reverse di ledian e la rara è un fuuuu bellissima hyper di tornados v max incredibile abbiamo trovato l'hyper v max ragazzi stavo per dire non abbiamo trovato niente neanche in questo pacchetto quando in realtà è arrivato un bel tornados v max hyper guardate come sgrillucica ragazzi incredibile bene 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 a questo giro ci è andata un po' meglio abbiamo trovato la nostra hyper di tornados v max andiamo con il nostro terzo ultimo pacchetto codicino per voi andiamo 1 2 3 4 una bella energia erba l'iron narciso willy pet rookie globopus aerocross marip larvesta la reverse di pioni eh la rara è un niente un volcarona no olografe però diciamo che per adesso non ci possiamo lamentare abbiamo le ultime due bustine e speriamo di trovare qualcosa altro altrimenti va bene l'hyper ma volevamo qualcosa di più codicino e 1 2 3 4 e abbiamo energia fuoco tania tania ancora energia spirale cravo minivo yamask di galar zwirlix spill skewot supet la reverse di pettorale di galar e la rara è un niente surface di galar speriamo che quel v max non sia l'unico anche perché abbiamo l'ultima bustina di ogni vediamo un po' se ci troviamo qualcosa andiamo con casco in forma acqua codicino che vado a regalare è 1 2 3 4 e vediamo un po' lotta stennini lyron hitmer casco in forma pioggia farfetch di galar weidon snizzle groky farfetch di galar in reverse e l'ultima è un niente niente sarina non olografico diciamo che in otto pacchetti ci poteva andare un po' meglio ma almeno ci abbiamo trovato il nostro tornados v max hyper bene ragazzi purtroppo questo spacchettamento è finito solo con una hyper di v max di tornados vediamo come andrà il prossimo set allenatore che aprirà mercoledì io vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti lasciate un bel like iscrivetevi al mio canale e condividetelo con tutti i vostri amici io vi saluto e ci vediamo ciao ragazzi grazie